tre punti importantissimi per noi perché non era facile comunque venire qua e vincere però comunque abbiamo provato bene la partita perché volevamo dare continuità ai risultati che facciamo in casa e l'abbiamo fatto nel miglior modo possibile mi mancava perché erano tre mesi che non giocavo per questi problemi mi mancava davvero tanto ristare in campo, aiutare i compagni sono contentissimo di essere tornato e di aver vinto qui a Empoli volevo rientrare sul sinistro per calciare perché avevo i crampi dappertutto a destra sicuramente ho sbagliato perché se tiravo di destra magari potevo fare gol dovevo essere un po' più lucido perché comunque lì chiudevo la partita quindi è un momento importante della partita però per fortuna è andata bene che abbiamo vinto e l'importante è quello non bene perché comunque io non ho mai avuto problemi muscolari, mai infortuni gravi quindi non sono mai stato più di due settimane lontano da un campo starci tre mesi dopo una lesione muscolare, dopo rientrare in campo e rifarmi male di nuovo è stata dura però non ho mai mollato e adesso sono qui e voglio rialutare la squadra sì l'anno scorso purtroppo è andata male la semifinale adesso ci riproviamo anche se comunque non è facile adesso dobbiamo dare continuità a questo risultato perché comunque siamo un'ottima squadra possiamo toglierci tante soddisfazioni no no niente ci siamo salutati e ho parlato perché mi ha detto di andare da un ragazzo per far Pilates a Pescara e ho seguito il suo consiglio che sto facendo quindi con Leo comunque sto in buon rapporti grazie a tutti Grazie a tutti